Questa è l'ora solare e oggi l'ora solare splende negli occhi blu cielo nell'intelligenza e nella grazia e guardate che mettene insieme tutte e tre le cose è dura eh di un alfiere della repubblica per meriti scientifici titolo ricevuto direttamente dalle mani del presidente Sergio mattarella ha scritto e pubblicato cinque libri dedicati agli uccelli e ai dinosauri l'ultimo che fine hanno fatto i dinosauri e adesso il nostro alessandro trese il nostro regista inquadra questo splendore lui si chiama francesco barberini e gli va fatto un applauso stellare stellare grazie ben arrivato signor alfiere grazie ciao ciao a tutti ci possiamo dare del tu vero sì sì assolutamente bello così mi sento ancora più giovane edito da salani che fine hanno fatto i dinosauri che fine hanno fatto i dinosauri francesca bella domanda infatti molte persone avranno visto giurassic park certo come scritto nel libro dobbiamo sapere che i dinosauri non erano animali lenti goffi insomma queste creature terribili feroci magari insomma un po feroci lo erano però erano creature ben diverse da quelle da come molto spesso pensiamo pensiamo che soprattutto perché i dinosauri avevano evoluto piume e penne i dinosauri erano piumati le piume le penne e dinosauri sono servite per tantissimi scopi innanzitutto per mantenere il calore corporeo e quindi non disperderlo all'esterno in questo modo il loro metabolismo era aumentato era più veloce il metabolismo vuol dire la capacità di assorbire energia e questo permetteva ai dinosauri di essere più veloci di mangiare più velocemente di correre anche più veloce poi le piume per i dinosauri erano un po dei cartelli pubblicitari sì perché presentavano queste piume lunghe e tutte colorate certo che servivano per attrarre le femmine oppure per spaventare i predatori si poi anche per la cova per esempio il fossile di oviraptor che era un piccolo dinosauro più o meno di questa altezza è stato trovato questo fossile sopra delle sopra un nido con delle uova questo ci fa capire che i dinosauri accudivano i propri piccoli i dinosauri erano intelligenti agili e soprattutto piumati e poi hanno scoperto che le piume potevano essere servite anche per il volo e si sono evoluti negli odierni uccelli i dinosauri quando ora tra noi i dinosauri quando noi vediamo una rondine un piccione un e poi francesco li conosce tutti sono i pro 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 nipoti dei dinosauri si lo so vi sto vedendo da casa vi state chiedendo se lui sia vero è vero tu quanti anni hai 13 13 ed è proprio così è un l'ho detto prima è carico di una grazia che deve al suo papà e alla sua mamma perché la frutta casca attorno all'albero questa volta lo dovevo dire e questa passione questo amore smodato che tu hai per gli uccelli che ti ha fatto diventare un giovane esperto del settore come è nato allora molti pensano che sia nata dai miei genitori ma non è così è nata quando avevo due anni e mezzo quindi ero molto piccolo come anche scritto nel libro guardando un film documentario sugli uccelli il popolo migratore e quindi ho visto ho aperto gli occhi su questo mondo di questi uccelli che volavano e che mi hanno insomma erano molto affascinanti e quindi da lì è iniziata la mia passione mi sono interessato sempre di più sugli uccelli e quindi ero molto curioso fatto sta che ho iniziato a leggere a scrivere prima di andare a scuola proprio perché volevo imparare sempre più cose su questo mondo sulla natura allora guardate questa questa fotografia questa fotografia ci dice che francesco barberini che ha un grande talento non ci sono dubbi ma soprattutto una gran voglia di imparare io credo che questa poi sia la tua la tua vera grande forza sia una costante voglia di sapere di più tu vivi in campagna quindi hai un'opportunità e una possibilità maggiore rispetto rispetto a me che vivo in città di poterli osservare da vicino di poter vedere anche quanto siano importanti quanti danni noi facciamo al mondo alla natura assolutamente tu hai messo in riga tutti nel tuo comune hai anche dato incarichi al tuo sindaco tu hai dato ma questa è una cosa grandiosa hai fatto una cosa giusta allora io fin dall'età di sette anni ho fatto delle conferenze agli adulti anche ai ragazzi mi piace anche fare delle conferenze ai ragazzi con un po un linguaggio da pari a pari un po una chiacchierata anche per sapere come loro immaginavano i dinosauri come in realtà secondo le ultime scoperte sono e oltre che al di là del messaggio che i dinosauri sono ancora tra noi io cerco di fare un po una sorta di pubblicità per la natura perché come dico sempre se la natura la conosci la ami e se la ami la proteggi e la rispetti non come la stragrande maggioranza altrove forse stragrande maggioranza no perché oggi siamo diventati un po in corsa francesco è un po in gravissimo ritardo però siamo diventati più attenti allora angelo ghinassi è il sindaco e il sindaco del paese dove sì della località dove francesco vive che cosa hai fatto tu con il tuo sindaco allora ho mandato una lettera al comune per chiedere la per chiedere la dichiarazione di emergenza climatica ambientale perché perché purtroppo il giorno d'oggi c'è ancora poco rispetto per la natura e soprattutto questa dichiarazione di emergenza climatica ambientale dà la forza di smuovere verso un futuro più sostenibile ecco quindi magari l'installazione di colonnine per la ricarica delle macchine elettriche oppure cambiare le luci con luce a led che anche perché molto spesso pensiamo che cambiare nel modo più sostenibile insomma bisogna fare sacrifici ma non è così si possono anche trarre dei vantaggi io direi che si traggono soprattutto vantaggi magari un piccolo sacrificio iniziale che porta però per esempio le luci a led consumano molto meno di delle luci normali certo non ci sono dubbi allora viaggiare viaggiare significa riempire i tuoi begli occhi ma belli Francesco non solo perché sono belli belli perché tu sei pieno di vita e sei pieno sei il futuro in realtà sei già il presente però sei il futuro quindi sei il miglior rappresentante che possiamo avere davanti a noi i viaggi quanto sono importanti per te quali sono i luoghi dove sei stato dove dove hai appreso di più il nome di questo tuo amore per l'ornitologia importante è viaggiare proprio conosci la natura perché un altro modo per rispettarla è proprio godere di essa quindi stare in mezzo alla natura fare delle passeggiate il periodo del lockdown ci ha fatto riflettere e quindi non si poteva viaggiare ma comunque è stata l'occasione per riscoprire delle aree verdi vicino casa perché molto spesso si sente molto spesso si pensa che bisogna viaggiare per andare a trovare dei posti dove magari e la bellezza ce l'hai vicino casa? sì assolutamente quindi è importante riscoprire magari dei luoghi vicino casa che possono essere importanti da un punto di vista di biodiversità guardiamo insieme queste immagini questo è un cigno lo riconosco pure io nel senso che è così però ecco prestiamo abbastanza attenzione noi gli uccelli volano e noi li vediamo insomma c'è una meravigliosa canzone di Franco Battiato a riguardo però possiamo diventare anche noi se non esperti almeno capaci di distinguerli cosa dobbiamo fare se troviamo un uccello ferito per esempio eh allora parto dal fatto che il lockdown ci ha fatto riflettere ci ha fatto riflettere ci ha fatto anche capire che l'uomo è una specie più vulnerabile di quanto pensiamo poi lo studio degli uccelli per esempio pensiamo ai dinosauri i dinosauri sembravano invincibili c'erano delle creature davvero molto grandi ecco però una meteorite ha causato l'estinzione e si sono salvati solamente piccoli uccelli di queste dimensioni questo ci fa capire che in natura non vince il più forte ma vince quello che si adatta meglio gli uccelli si sono evoluti da 200 milioni di anni fa fino ad oggi quindi possiamo dire che l'era dei dinosauri è oggi perché i dinosauri si sono trasformati in creature che sanno volare nuotare e camminare noi riusciamo solamente a camminare e poco a nuotare quindi questo ci fa capire che loro sono davvero delle creature molto belle fermati su creature molto belle è bello che ci fosse il suo primo piano una creatura molto bella Francesco sarà da grande Francesco Barberini un grandissimo ornitologo e un grandissimo difensore della bellezza della natura ed è nostro è nostro concittadino e alfiere della Repubblica Italiana un volo rapidissimo sulla pubblicità e torniamo in studio con questa meraviglia l'ora solare ritorna con Francesco Barberini che fine hanno fatto i dinosauri come erano veramente e come sono diventati vi do una notizia un libro che possono leggere i ragazzi dai 6 ai 96 perché questo è un libro che possiamo leggere tutti per capirne di più il giovanissimo tredicenne alfiere della Repubblica Italiana per meriti scientifici abbiamo anche la foto di Francesco con il presidente Mattarella sì che ce l'abbiamo e la facciamo vedere com'è stato quel giorno? è stato molto emozionante molto bello mi ha dato la spinta di andare avanti e di continuare a coltivare la mia passione io poco fa ho fatto vedere eccolo qua guardate che bello che sei guarda che bello sguardo che ti dà il nostro presidente quelle immagini bellissime che abbiamo visto poco fa le hai girate tu? sì ho fatto insomma faccio spesso dei viaggi nelle oasi d'Italia allora molti mi chiedono quale sia l'oasi che mi piace di più ma non c'è una molto più bella rispetto a un'altra perché poi dobbiamo sapere anche che comunque l'Italia è un luogo molto bello perché c'è una grande varietà di ambienti si va dalle montagne nevate fino alle zone aride certo e ogni ambiente è caratterizzato da specie diverse quindi abbiamo tantissime specie che popolano il nostro il nostro paese assolutamente ci sono tantissime specie se si contano anche quelle accidentali ossia quelle che vengono avvistate ogni tanto si arriva anche a mille specie diverse di uccelli che si possono avvistare in Italia il tuo futuro il tuo futuro lo ripetiamo è fatto di presente però tu vuoi diventare un ornitologo voglio continuare a fare quello che faccio adesso già lo sei un ornitologo allora per diventare un ornitologo bisogna prendere una laurea certo però allora ci sono due tipi di fare lo scienziato oltre che l'ornitologo insomma nel campo della scienza c'è chi è lo scienziato da laboratorio ossia quello che sta in campo che chiaramente studia e fa un lavoro che gli piace perché magari scopre pure cose nuove e poi c'è invece chi divulga divulgare vuol dire dire al popolo come faccio in quest'ultimo libro parlo di cose molto scientifiche che riguardano l'evoluzione dei dinosauri e gli uccelli però chiaramente con un linguaggio semplice quindi tutti possono leggerlo e trarre delle conclusioni il divulgatore è questo sì e io voglio fare un po' tutte e due le cose quindi sia studiare sia divulgare allora sapete che i libri hanno sempre la fascetta no? che è quella che fa dire oh guarda qualcuno mi sta consigliando questo libro fidatevi io ve la leggo tutta questa fascetta com'erano veramente e come sono diventati virgolette un nuovo libro di Francesco punto esclamativo complimenti per il suo talento e la sua passione se in futuro riuscirà a farne una professione come credo sarà un uomo fortunato sapete chi ha firmato? Piero Piero Angela lo so da casa state facendo un applauso lo facciamo anche noi lo facciamo a Francesco Barberini e alla sua famiglia a cui questo libro è dedicato avanti tutta Francesco è stato un onore un onore averti ospite allora grazie grazie a voi che uccello sei? un'aquila reale? sono un dinosauro allora diciamo che un dinosauro? basta mi basta allora sono insomma un dinosauro è come un uccello e un uccello è come un dinosauro il mio uccello preferito è il fetonte un uccello che ho avuto la possibilità di vedere le isole Seychelles che è un uccello slanciato con una lunga coda rossa la vedete la mia faccia sì molta pagina che devo fare? grazie grazie in questa puntata fortunatissima è naturale costruire un ponte con il più grande io credo che la divulgazione l'abbia inventata lui Piero Angela eh sì Piero sì sì applausi a non finire grazie di essere con noi Piero buongiorno buongiorno allora ed è rimasto con noi almeno per un saluto e una domanda Francesco Barberini giovane alfiere della Repubblica Italiana per meriti scientifici che nel suo ultimo libro che fino hanno fatto i dinosauri ha una fascetta firmata da Piero Angela da Piero Angela quindi è un incontro meraviglioso Francesco tutto tuo tutto tuo prego ciao Piero come stai ciao Francesco bene bene ti ho visto ti ho sentito sei bravissimo grazie grazie complimenti allora no visto che insomma tu stai a contatto con parecchi scienziati pensi che in quest'ultimo periodo ecco il rispetto della natura ci sia in maggioranza come sono insomma gli ultimi dati perché il periodo del lockdown ha un po' scombussolato il tutto beh sai a me quello che preoccupa non è tanto l'immediato ma il medio e lungo termine le persone si occupano poco delle cose che non accadono subito ma a distanza quindi il lockdown ha spaventato un po' tutti cioè questo virus ha creato una mobilitazione la gente ha accettato anche di fare sacrifici molto gravi lo sappiamo ma accetta difficilmente di fare sacrifici anche piccoli per preservare il futuro forse questa è una lezione che dobbiamo trarre volevo dire che vedendo dei ragazzi come te di rincuoro perché magari ci fossero tanti giovani perché tu tra l'altro lo fai con gioia questo col sorriso lo studio non diventa più vico lo stadio della tua materia diventa una gioia come è stato per me come è stato per le persone che amano il loro lavoro per il quale non c'è né tempo né hanno sempre la disponibilità di di lavorare su questi progetti perché lo fanno con grande piacere ecco questo è il modo anche per imparare meglio perché se c'è la passione c'è l'interesse ed è molto difficile che i giovani azzecchino questo dovrebbe essere uno dei compiti della scuola suscitare degli interessi cercare vocazioni e fare in modo di imparare attraverso dei progetti attraverso le proprie tendenze quindi tu come dico nella fascetta sei stato fortunato adesso per avere questo questo argomento su quale appassionarti ma se riuscirei farne una professione veramente sarei molto fortunato perché vuol dire che per tutta la vita fare qualcosa che ti piace Francesco Barberini possiamo salutarlo Piero vero? Sì assolutamente un caro saluto grazie restituisco il tuo libro grazie grazie giovane Francesco giovane alfiere della Repubblica Italiana Piero che meraviglia nonostante i collegamenti da lontano nonostante tutto vedi che bello il più grande e il più piccolo che si sono incontrati hanno parlato del valore della della divulgazione Piero meraviglioso e io vado subito con Superquark più perché tu non ti smentisci mai e alla tua giovane età hai realizzato ancora una volta qualcosa di grandioso cioè far parlare di scienza con te a capotavola i più giovani in questo caso sono giovani scienziati più grandi chiaramente di Francesco e tutto questo per far capire a noi tutto sì questo è un nuovo programma che va solo sul web e che si chiamerà e anzi si chiama Superquark più abbiamo adesso messo in onda la seconda serie di dieci puntate e ha un sottotitolo brevi storie di scienza cioè in modo per avvicinare il web ha dei tempi molto più rapidi il nostro programma dura quasi due ore bisogna sedersi vederlo eccetera quello lo si può gustare un po' come un caffè è diviso in tanti episodi sui temi più vari alcuni più pesanti diciamo alcuni più leggeri e quindi vai vai Piero scusami no no avevo solo detto una E niente di più vai avanti e quindi questo lo potrete vedere su RaiPlay che è la piattaforma dell'area portale sul quale ci sono tante cose tra cui questa e c'è anche il menu si può scendere quelle cose da vedere e quindi perché noi abbiamo bisogno di informazione più diciamo fatta in modo corretto e il nostro pubblico spero che ci segua ancora e sempre più su questa piattaforma perché lì abbiamo modo poi di raggiungere una platea nuova di quella soprattutto dei più giovani ecco Piero ti chiedo 18 marzo 1981 ci sono date che rimangono nella nostra storia personale 9 milioni di spettatori Super Quark era la prima puntata e grazie a te Piero grazie a te che non sei nato con Super Quark tu sei io ho portato ho portato il tuo libro meraviglioso ci tengo ci tengo a farlo vedere il mio lungo viaggio 90 anni di storie vissute nelle quali tu insomma in queste pagine tu racconti chi sei però per noi per tutti tu sei il divulgatore eccolo qua Super Quark a parte Piero che sei sempre uguale ma lasciamo perdere ecco quanti giovani di allora sono diventati amanti della scienza anche se poi hanno fatto gli avvocati ma hanno capito di più grazie a te a quante persone hai fatto bene alla testa Piero non lo so guarda io però quando vado in giro anche tra i giovani perché quando vado in giro a fare conferenze provo tantissime persone che mi dicono ah io ho fatto questa professione perché leggendo un suo libro vedendo il programma oppure no persone che comunque come tu dici fanno tutt'altro ma che sono rimasti dei nostri voi pensi che una volta mi ha fatto veramente divertire questo c'era un signore molto anziano con la barba lunga e i capelli bianchi camminava con difficoltà col bastone mi ha detto io la seguo sin da quando ero bambino scusa è vero ormai mi ha fatto sentire bellissimo perché io avrò avuto 70-80 anni da quando era bambino beh era nato con la barba però però dall'idea Piero dall'idea del bene che tu hai fatto nel senso a me viene in mente ora visto di tu parli di Superquark più le tue pillole ti ricordi le pillole che tu subvidevi nel palinsesto nel corso della giornata che erano fondamentali sì quella lì era un'idea che avevo avuto negli anni 80 quindi stiamo parlando di quasi 40 anni fa perché in realtà era per riuscire a portare delle idee dei semi delle delle pulci nell'orecchio degli spettatori che non vedevano il mio programma e ho convinto i direttori dell'epoca hanno accettato questa idea di fare dei mini programmi di 30 secondi ognuno con un'idea un concetto ne abbiamo prodotti 200 su tutti gli argomenti non solo di scienza tutti e sono andati un po' ovunque a un certo punto persino dei pacchetti pubblicitari e abbiamo calcolato che ne sono passate 5000 di queste pillole ognuna delle quali era portatrice di un'idea che sperabilmente poi entravano nei circuiti cerebrali facevano la loro strada in qualche modo rimanevano anche perché la ripetizione un po' come gli spot pubblicitari che per quello si ripetono che fanno rimanere nella memoria più facilmente il concetto e quindi quella è stata un'esperienza che bisognerebbe ripetere ce lo diciamo sempre allora e noi siamo qui ad attendere allora la tua la tua la tua presenza di cui io ce lo siamo già detti Piero ma non so come ringraziarti al contempo la tua assenza dallo studio è dettata dal fatto che da bravo ragazzo piemontese torinese tu sei obbediente al tuo medico di famiglia non si esce da casa in questo momento non si esce da casa ora Piero i ragazzi che in questo momento devono studiare a distanza devono si trovano in una fase in cui lo studio che è così importante non è quello che loro si sarebbero aspettati ecco che cosa che cosa devono fare per non perdere quel filo per non perdere per non rompere la collana del sapere beh guarda sappiamo che speriamo intanto che questo periodo sia breve tutti aspettiamo questo famoso vaccino che ci viene presentato come prossimo a dicembre gennaio e quindi bisogna scrindere i denti però ognuno se prende sul serio lo studio può fare da sé tu sai ci sono dei ragazzi meno fortunati che lavorano e da sera studiano per comunque portarsi a far arrivare un diploma persino non ho laurea e quindi senza poter frequentare vanno magari alle scuole serali ma soprattutto studiano a casa noi tutto sommato siamo sempre un po' dei privilegiati e adesso devo dire col web certo non è come lavorare in classe con l'insegnante perché questo è insostituibile però se uno vuole può lavorare da solo e comunque avere un contatto con l'insegnante perché queste lezioni avvengono comunque a via del web e quindi dipende molto dalla buona volontà di chi si impegna a fare la sua parte perché bisogna fare ognuno deve fare la sua parte in questa situazione Piero nel periodo del lockdown ti vediamo nel tuo studio sono più le targhe e i premi che vedo sopra la tua testa e sono soltanto una piccolissima parte presumo ecco tu questo questo periodo come lo stai impiegando io ti immagino tra mille carte da riordinare insomma ti immagino che fai Piero Angela ecco è proprio così ma guarda io non mi fermo mai non mi annoio mai c'ho sempre tanto da fare intanto c'è tanta gente che mi chiede sempre delle interviste dei pareri per chiedere delle cose quindi ma e poi lavoro per Rai ma io scrivo libri scrivo dei pezzi e adesso anche su questo nuovo programma suono anche il piano forte attenzione attenzione allora meraviglioso musicista Angela Piero quando esce il suo disco di jazz quello proprio il disco quando esce Piero sto disco quando arriva eh lo so guarda io lo dico sempre che sono tanto forse troppo autocritico non sono mai soddisfatto perché devo dire la verità io una registrazione ce l'ho ma fatta ai tempi in cui sono veramente bene nel 1953 figurati che veramente ero molto bravo siccome sarà il primo pezzo che metto in questo disco poi non ci puoi sono una caduta verticale allora devo essere sempre un po' all'altezza di me stesso certo certo i tempi sono cambiati anche gli stili ma io ero molto moderno già all'epoca quindi diciamo però sono un buon punto sono un buon punto purtroppo non ho mai il tempo di mettere le mani sulla testiera mi capita ogni una volta alla settimana un'ora o mezz'ora mi riprometto sempre di non faccio questo poi c'è sempre qualcosa però uscirà uscirà però lo sai devo sbrigarmi no però no no tu ne compi favolosi 92 dico bene 92 a dicembre a dicembre sei un regalo sei arrivato come un regalo di Natale nella tua famiglia siamo vicini a Natale 92 quindi Piero insomma io credo che fra un 5 o 6 anni tu possa aver perfezionato al massimo il tuo disco ma facciamolo uscire per favore sì sì hai ragione entro quest'anno sarà difficile ma l'inizio dell'anno prossimo spero veramente e la tua la tua fabolosa dolce metà cioè la signora Margherita che io saluto con tanto amore e affetto ecco ti supporta in questo in questo tuo lavoro da sempre ma io la immagino la moglie di un genio e poi se cominciamo a parlare tutta la famiglia facciamo notte ma insomma quanto è importante Margherita nella tua vita? è molto importante perché lei mi riporta sempre con i piedi per terra cioè io non ho mai preso sul serio il successo che ho avuto l'affetto che la gente mi ha portato questo mi fa molto piacere sai è la cosa che dico sempre anche Alberto guarda Alberto ogni lavoro che tu fai ogni servizio ogni documentario ogni libro lo devi scrivere come se fosse il primo bravo cioè dando il massimo della cura perché ogni volta è un esame e tu non puoi perdere la la stima del pubblico perché pensi che ormai sei una firma e la gente in alle scienze è così come nel loro sport vale sempre l'ultimo risultato non quelli di prima e quindi il nostro è un lavoro come anche il tuo gli esami non finiscono mai ci sono gli scritti gli orali e poi il voto e quindi bisogna essere molto autocritici e mia moglie veramente mi critica sempre e questo mi fa bene io li adoro li adoro basta vederli insieme una volta guardate per adorarli una volta sola Piero noi ti mandiamo un abbraccio tanto è lontano perché purtroppo è lontano altrettanto è forte magari ci vediamo sotto il tuo compleanno che ne pensi? benissimo quando vuoi ormai con questo sistema uno non si deve muore da casa quindi è perfetto vorrei avere un cartello comunque complimenti a te sei molto brava tu sei solare grazie Piero aiuto non solo la tua trasmissione aiuto questo proprio non me lo aspettavo ma che bello averlo sentito Piero dovremmo alzare un cartello grazie per le tue parole per me in prima persona spero si veda che sono diventata del colore della poltrona e Piero Angela we love you questo dovrebbe passare in questo momento nel cielo davanti casa tua grazie Piero grazie di cuore a presto prestissimo e a tra poco scusate sono qui i momenti così proseguiamo il percorso sulle storie degli anziani nella Bibbia con la nostra sì posso dirlo Emanuela Buccioni biblista bentornata Emanuela consacrata dell'Ordo Virginum insegna al liceo scientifico Gandhi di Narni e tiene corsi e quali corsi e quanto sulla Bibbia oggi parliamo di Simeone ed Anna e come sempre Antonella Civale grazie per essere con noi attrice e voce che legge questi passi della Bibbia in quali pagine troviamo queste due figure Simeone ed Anna ci troviamo nel Nuovo Testamento con più precisione nel Vangelo secondo Luca è un brano che in realtà è abbastanza noto perché viene letto secondo la liturgia il 2 febbraio da me si chiama la festa della candelora ma insomma è quella nota come la festa della presentazione al Tempio cioè Gesù che ha 40 giorni deve essere portato al Tempio per dei riti che secondo la legge di Israele e i genitori lo portano insomma a fare questa cosa piccolino 40 giorni e in questo momento incontrano questi due anziani allora Antonella Civale legge per tutti noi dal Vangelo di Luca capitolo 2 i versi vanno dal 25 al 32 ora a Gerusalemme c'era un uomo di nome Simeone uomo giusto e pio che aspettava la consolazione di Israele e lo Spirito Santo era su di lui lo Spirito Santo gli aveva preannunciato che non avrebbe visto la morte senza prima aver veduto il Cristo del Signore mosso dallo Spirito si recò al Tempio e mentre i genitori vi portavano il bambino Gesù per fare ciò che la legge prescriveva a suo riguardo anche egli lo accolse tra le braccia e benedisse Dio dicendo ora puoi lasciare che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola perché i miei occhi hanno visto la tua salvezza preparata da te davanti a tutti i popoli luce per rivelarti alle genti e gloria del tuo popolo Israele Allora ora puoi lasciare al Signore che il tuo servo vada in pace chi è? chi è questo Simeone? questo Simeone innanzitutto è un anziano che però non è invecchiato solito quando si invecchia si diventa un po' duri d'orecchie scende la cataratta e invece lui ci vede molto bene e ascolta molto bene abbiamo sentito che in pochi versetti è ritornata più volte la parola dello Spirito lo Spirito Santo lui sa ascoltare una parola evidentemente interiore e che gli ha promesso che non sarebbe morto prima di vedere il Messia che avrebbe realizzato questo che è il sogno di ogni grande di ogni israelita di ogni persona che attende nella tradizione ebraica questa figura così importante che è quasi sinonimo di consolazione del popolo di Israele e lo Spirito lo muove gli dice adesso è ora vai quindi la prima cosa che notiamo ne noteremo due o tre in questo brano è che lui in quel momento è un ebreo definito giusto giusto e pio la Pentecoste la discesa dello Spirito Santo non c'è ancora stata la Chiesa non è ancora stata formata ma lo Spirito Santo parla alle persone giuste questo è un grandissimo insegnamento in tutto l'Antico Testamento c'è questa insistenza sulla giustizia che non dobbiamo mai dimenticare addirittura nel libro della Sapienza si dice che l'universo è alleato dei giusti quindi una cosa bellissima l'essere giusto è ciò che predispone ad ascoltare la parola di Dio nel proprio cuore che ovviamente è parola dello Spirito e questo è ciò che Simeone sa fare ascolta e vede molto bene riconosce il bambino però ecco non ci fermiamo qua possiamo anche osservare che Simeone fa questo canto bellissimo che tu dicevi all'inizio l'hai ricordato e qual è questo cantico? per chi è abituato a dire la preghiera di compieta la sera è il cantico intitolato Nunc Dimittis ora lascia o Signore che il tuo servo vada in pace secondo la tua parola adesso l'ultima traduzione è stata un po' modificata ora puoi lasciare però in entrambi i casi presuppongono come se ci fosse un imperativo dietro Signore ecco c'è stato questo compimento ora mandami via fammi morire ora la cosa suona un po' strana chi è che può chiedere di morire la cosa ci lascia un po' così perplessi di per sé sarebbe un caso unico nella Bibbia perché qualche volta qualcuno che osa dire cose del genere in realtà le fa come un grido che chiede al Signore di intervenire mai veramente chiedendo la morte come una richiesta esatto come una richiesta addirittura non ha la forma di un imperativo oppure ecco la forma concessiva in originale in greco e come correttamente ha tradotto in latino c'è un indicativo quindi lui non sta chiedendo di morire o quasi ordinando a Dio di farlo ma sta facendo una constatazione ora Signore mi lasci mi sciogli quasi potremmo dire mi liberi mi fai mi sciogli le vele ecco mi viene questa immagine mi liberi da tutte quelle che erano le mie paure i miei dubbi questo Messia arriverà mi hanno detto che arriverà prima che io muoia ma chissà e allora qui ci vengono in mente i nostri anziani che magari si sentono come soddisfatti quando un figlio un nipote si è laureato quando si è sposato sono riuscito a vedere questo ho visto ciò che attendevo e adesso Signore muoio contento non tu mi fai morire o fammi morire ma ora veramente quando sarà posso andarmene contento quante volte l'abbiamo sentita questa frase detta dai nostri vecchi se ci ripensiamo tantissime volte ci è capitato alla quale noi puntualmente rispondiamo non lo dire nemmeno però eh già però c'è questa frase ancora la nostra Antonella Civale sempre il Vangelo di Luca capitolo 2 versi 33-35 Il padre e la madre di Gesù si stupivano delle cose che si dicevano di lui Simeone li benedisse e a Maria sua madre disse ecco egli è qui per la caduta e la risurrezione di molti in Israele e come segno di contraddizione e anche a te una spada trafiggerà l'anima affinché siano svelati i pensieri di molti cuori e qui va avanti il suo discorso ha iniziato con un canto bellissimo si parlava del Messia come la luce delle genti e invece ora siamo quasi un po' spiazzati e allora qui facciamo solo due piccole osservazioni quando uno dice andrà tutto bene non è una parola magica non è una formula magica è una presa di impegno una presa di responsabilità perché si facciano quelle scelte giuste perché tutto vada bene allora cosa ci richiama questa espressione di Simeone che la realtà va assunta nella sua totalità che l'annuncio più gioioso non è scevero dal fatto che c'è una difficoltà da affrontare ci sono degli ostacoli da superare quindi la realtà va letta nella sua concretezza nella sua anche a volte durezza per poi trasformarla quindi ecco che nelle parole che abbiamo ascoltato diventa una spada che trafigge diventa diventa ecco un altro dettaglio interessante i pensieri che vengono svelati davanti a qualcosa a una prova a qualcosa di importante di forte emerge ciò che c'è dentro in fondo è quello che abbiamo vissuto anche in questi mesi le persone sono cambiate veramente le persone hanno tirato fuori quello che avevano dentro forza coraggio generosità oppure un po' di meschinità un po' di egoismo o anche ecco l'essere un po' sciacalli in certe situazioni ma non è che sono cambiati i pensieri dei cuori sono stati svelati questo è quello che i pensieri dei cuori svelati vuol dire essere davanti ad una finestra con un vetro pulitissimo cioè possiamo vedere il meglio e il peggio però possiamo vedere possiamo vedere lui dice questo questa luce svelerà quello che c'è già e quindi i buoni se vogliamo i giusti secondo la categoria usata finalmente potranno sollevare la testa e chi invece ha sempre avuto un atteggiamento negativo potrà da un lato avere l'opportunità di correggersi ma diventerà anche più chiaro per gli altri l'identità come sia esattamente della persona e quindi lui ci dice questo però la realtà quando dobbiamo modificarla può essere dura e va assunta nella sua totalità cioè non c'è solo quasi un miele una dolcezza quindi l'andrà tutto bene non è non vi preoccupate è tutto a posto andrà tutto a posto sarà tutto chiaro ci impegniamo a che vada tutto bene dipende da noi dipende dalle scelte ma le scelte si basano su una lettura corretta del presente della realtà da lì posso fare le mie scelte e così andrà tutto bene altrimenti riduciamo appunto la formuletta magica sia nelle situazioni che ricordiamo di attualità ma ovviamente anche quando annunciamo il Vangelo non è che il Signore interviene magicamente nel risolvere le cose ma ci aiuta a capire cosa abbiamo dentro in modo che possiamo seguirlo in verità proseguiamo sempre dal Vangelo di Luca sempre con la nostra Antonella Civale i versi 36-38 perché abbiamo parlato anche di Anna ed è questa figura che andiamo ad incontrare c'era anche una profetessa Anna figlia di Fanuele della tribù di Aser era molto avanzata in età aveva vissuto con il marito sette anni dopo il suo matrimonio era poi rimasta vedova e ora aveva 84 anni non si allontanava mai dal tempio servendo Dio notte e giorno con digiuni e preghiere sopraggiunta in quel momento si mise anche lei a lodare Dio e parlava del bambino a quanti aspettavano la redenzione di Gerusalemme ringraziamo Antonella Civale grazie sempre a voi grazie di essere con noi profetessa profetessa questa è la cosa fondamentale meravigliosa non così rara non così frequente ma preziosissima laddove avviene che una donna è chiamata profetessa e qui ce l'abbiamo nel Nuovo Testamento cioè una persona che parla a nome di Dio quindi Anna ci introduce già in questa dimensione cosa notiamo di lei che ci viene detto quanti anni ha 84 ora teniamo conto che nemmeno di Gesù il Vangelo ci dice con precisione quanti anni avesse invece di questa donna viene ricordato era anziana e aveva passato più di 60 anni a servire Dio giorno e notte nel Tempio qui mi ricordo tantissimo quante delle nostre parrocchie non andrebbero avanti senza queste donne figure fondamentali che si dedicano veramente fanno andare avanti tutto con amore grande al Signore e agli altri e allora ecco l'ultima battuta che possiamo fare su questa splendida figura femminile che arriva sopraggiunge e si metta ad annunciare che il Messia è arrivato che Gesù è veramente la risposta che ad alcune persone che pensano che la religione è un po' l'occhio dei popoli che è qualcosa che un po' ti invita a rassegnarti perché tanto nel paradiso tutto andrà bene ecco lei dice attenti la fede è qualcosa che se annunciata crea liberazione redenzione abbiamo sentito ma si può rendere anche con liberazione che poi è il senso profondo cioè se Simeone attendeva insieme al popolo la consolazione quella spinta che ti aiuta a crescere a migliorarti in realtà Anna dice sì ma fede significa liberare dalla paura dall'oppressione da tutto ciò che calpesta la dignità delle persone e una donna anziana ce lo ricorda e lo dice con una soddisfazione negli occhi Emanuela Buccioni che noi ormai conosciamo conosciamo bene Emanuela grazie grazie di cuore io do del tuo ad una strepitosa biblista bravissima capace proprio perché così brava di far arrivare a tutti noi il senso di quelle parole e l'applicazione che possiamo fare nella vita di tutti i giorni a questo vale anche a questo vale tutto ciò grazie di essere stata con noi la recita della coroncina tra poco e poi domani alle ore 14 noi vi aspettiamo sempre la vostra ora solare che è anche la nostra ma è soprattutto la nostra grazie grazie a tutti